forza dai dai 50 pezzo dai dai 50 pezzo forza stamattina anche a me un'euro per cattaccio mangiare le picciotezze c'è signato che è un pitbull era un pazzo stamattina adesso è lo stesso io dai 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 50 prima dobbiamo avere un chiarimento un chiarimento per le nostre famiglie mi dispiace che siamo pochi perché dovremmo essere di più di 100 50 centesimi per i bambini e adesso a mangiare